Ciao ragazzi, bentornati a 5Sense. Oggi scaviamo nella vita e nella vicenda del solo ghiaccio vivo che si sia mai visto, della bella di Dawson, della stella del polo di Doretta Doremi. Primo centesimo. Creatore di Doretta è Karl Barks, papà di Paperone, di Paperopoli e di tante altre meraviglie. Ma sapete nella sterminata produzione barksiana in quante storie compare la fiamma dell'Ozione? Una sola. Esatto, sulle 600 e passa storie tra brevi, brevissime e lunghe di Karl Barks, Doretta compare una volta sola. Compare in tante storie quante sono quelle di Barks in cui compare Topolino, in cui compare Lord Piselloni. E per di più compare per quasi tutto il tempo anziana. Le poche vignette in cui compare il giovane vennero in buona parte censurate ai tempi perché giudicate troppo violente. Stiamo parlando della rissa nel saluno, ad esempio del rapimento di Doretta stessa. Certo, una presenza sola, ma in una storia pazzesca, meravigliosa. Back to the Klondike del 1953, Zio Paperone e la stella del polo. Ma resta pur sempre una. Secondo centesimo. L'ispirazione per Doretta giunge a Barks in un momento non semplice della sua vita privata. Si è da poco messo alle spalle il secondo divorzio, vive girovagando in California tra un motel e l'altro con poco altro che non la compagnia dei suoi amati paperi. Non è impossibile escludere che questa fase complicata della sua vita sentimentale e non gli abbia ispirato questo amore complicato. Doretta è la tipica ballerina da saloon di fine ottocento, figura legata a doppio filo alla corsa all'oro, fenomeno in cui Barks sta emergendo Paperone proprio in questo periodo. La canzone intonata da Doretta nei ricordi di Paperone, After the Ball, fa parte del repertorio di Lillian Russell, leggendaria ballerina di fine secolo. Terzo centesimo. Quindi Barks crea Doretta, la usa in una storia bellissima e poi più nulla. Dovremmo aspettare quasi 15 anni per rivederla e succede in Italia. Siamo nel 1966 e niente meno che Romano Scarpa ripesca dal mazzo il personaggio e lo mette in una storia, una storia non casuale. Arriva Paperetta Yeye, la storia d'esordio proprio di Paperetta Yeye, che è la nipote di Doretta Doremi. La stella del polo appare ancora anziana e conosce Brigitta in uno storico incontro che nelle intenzioni di Scarpa dovrebbe essere una sorta di passaggio del testimone. La domanda è, ma se Paperetta è nipote di Doretta e Paperetta chiama nonnino Paperone in vari momenti di questa storia? Vogliamo forse pensare che Paperone e Doretta... Quarto centesimo. Ricapitoliamo. Barks nel 1953, Scarpa nel 1966, poi praticamente più nulla fino agli anni 80. C'è una manciatina di storie tra cui un paio anche italiane in cui Doretta compare, ma si tratta per lo più di camei, si tratta per lo più di ricordi, insomma nulla di particolarmente rilevante. È quasi una comparsa, una comparsa del fumetto Disney. Ma tra gli anni 80 e 90 ci sono due fenomeni che riportano in scena letteralmente il suo palco del Klondike, Doretta, Doremi. Ed entrambi iniziano per D, come Doretta, Doremi. Il primo è DuckTales. La serie animata che dall'87 porta in scena le avventure di Paperi pesca a larghe mani nel repertorio barksiano. In particolare la puntata numero 33 si intitola proprio Back to the Klondike, ritorno al Klondike. E al netto di alcuni cambiamenti nella trama ci mostra una Doretta bella, giovane, truffaldina, seducente. Paperone curiosamente nel doppiaggio italiano la chiama con il suo nome originale, Goldie. Anzi, la scintillante Goldie, che traduce letteralmente Glittering Goldie. Anche nel meraviglioso reboot giunto ora alla terza stagione compare Doretta, seppur con un look e un ruolo parzialmente rivisitati. Quinto centesimo. Abbiamo detto che sono due le cose di fondamentale importanza che succedono a Doretta tra gli anni 80 e gli anni 90. Se la prima si chiama DuckTales, la seconda non può che chiamarsi Dorosa. L'epigono di Barks riprende Doretta in una serie di storie magnifiche. Nella saga, ovviamente, nel suo capitolo centrale, ma non solo, anche in Il sogno di una vita, anche nell'ultima slitta per Dawson, storia scritta prima della saga, e nei capitoli extra dell'epopea paperoniana. Cuori nello Yukon con la straziante scena della lettera nella neve e la prigioniera del fosso dell'agonia bianca, in cui c'è la celeberrima vignetta della capanna inquadrata da fuori, mentre i due dentro fanno la pace chissà come, chissà dove. Il Don ci mostra finalmente ciò che per decenni avevamo solamente sfiorato o intuito. I dettagli del rapimento, un amore burrascoso, un rapporto complicatissimo tra due personalità enormi. La sua Doretta è un personaggio dal carisma favoloso, dal grandissimo fascino, dal carattere forte, che se sa che non potrà mai avere paperone tutto per sé, coltiva nella sofferenza una briciola di speranza, destinata a scontrarsi inevitabilmente contro l'indipendenza del più furbo dei furbi. È un tormento, un dramma, tanto per loro, così forti e indipendenti da soli, ma così fragili e spaventati insieme, quanto per noi, che empatizziamo tantissimo. In questo senso, per me, la storia più bella, personalmente, di Don Rosa con Doretta è qualcosa di veramente speciale. È una storia bellissima. Non entro nei dettagli, perché se non la conoscete ve la rovinerei, leggetevela, piangete, come ho fatto io, e godetevi il tormento di questa ferita aperta, così agrodolce, così incredibile nella sua inafferrabilità. Anche per oggi è tutto. Se il video vi è piaciuto e volete lasciare un commento, una domanda, un'opinione, un suggerimento per una puntata futura, sarò felice di leggere. Se state guardando il video su YouTube, non dimenticatevi di iscrivervi al nostro canale e di attivare la campanellina per non perdervi nessuno dei nostri contenuti. C'è gente che cucina, gente che blattera, gente che intervista gente, gente che fa i bagni nelle monete, insomma, un sacco di roba bella. Grazie per aver visto la puntata, ci vediamo alla prossima. Ciao! Ciao!